Doppia seduta d'allenamento per il Palermo che ha iniziato oggi il percorso d'abbicinamento al match di sabato 26 agosto alle ore 20 e 30 allo stadio Renzo Barbera contro lo Spezia. Per il rosa e nero, al tenente onorato di Bocca di Falco, questa mattina lavori in palestra seguiti da esercitazioni tecniche in campo. Nel pomeriggio invece per la squadra di Tedino, dopo i lavori di attivazioni, esercitazioni tecnico-tattiche con una partita in porzione ridotta del terreno di gioco che ha concluso la seduta. Al termine dell'allenamento mattutino, Edin Aurein, conferenza stampa, ha raccontato le sue sensazioni in vista del prossimo campionato di Serie B. Sensazioni positive, io mi sono sentito bene subito appena entrato, poi parlando dell'anno scorso avevamo una buona squadra e come ho già detto, secondo me la Serie B è un campionato molto lungo, molto difficile e per far bene ci vuole un giocatore forte, questo sì, però anche una rosa lunga, con dei giocatori a disposizione pronti a entrare e fare la differenza a qualsiasi momento. Secondo me questo è la cosa che fa la differenza nella Serie B, visto che ci sono tantissime partite e penso che qui l'abbiamo. Abbiamo i giocatori forti, abbiamo una rosa abbastanza lunga, con i giocatori a disposizione che possono entrare o cominciare a fare la differenza. Grazie.